Vi presento il Messalino App, l'app gratuita che ti aiuterà ad accostarti ogni giorno alla parola di Dio. È disponibile su Google Play e App Store ed è semplicissimo scaricarla. Digita Messalino App e dopo il download clicca su Apri. Questo è il menu principale. In alto troverete il Santo del Giorno, da leggere e ascoltare. Il secondo bottone mostra la liturgia del giorno. Puoi cliccare o misso a parte. Trovi anche diversi video realizzati da diaconi e sacerdoti. Cliccando sul simbolo dell'altoparlante potrai ascoltare tutti i contenuti. Puoi andare avanti, indietro, mettere stop o pausa. Terzo bottone rinvia alla preghiera quotidiana. Le varie preghiere vi accompagneranno in ogni momento della giornata. Il bottone breviario vi farà leggere e ascoltare la liturgia delle ore. La sezione approfondimenti vi donerà contenuti utili per la vostra vita spirituale. Omelie, encicliche, rubriche di religiosi e vite dei santi con video. Cliccando sul simbolo del calendario puoi passare a tutti i contenuti della settimana. Cliccando sul simbolo dell'omino potrai accedere alle impostazioni, modificare il tema dell'applicazione, chiaro o scuro, aumentare o diminuire la grandezza dei testi e infine scegliere quale sezione abilitare all'audio. E adesso cosa aspetti? Condividi con i tuoi amici Messerino App. A presto!